il ciclope ci farà la pelle marco succederà e non ci sarà proprio nulla di divertente funzionerà te lo prometto ti ho mai mentito non ti rispondo neanche prendi l'occhio ma aspetta a venderlo nessun mercante penserà che sia legale tutti sanno a chi appartiene bene non perderlo occhio per oggi ne ho abbastanza caire marco aspetta una barca non l'ho mai vista prima è troppo bella per questo posto sperduto deve essere il ciclope e ha portato degli amici è tornato non riuscirò mai a riposarmi vero eliminali e avremo una preoccupazione in meno e poi questi stranieri sembrano ricchi come creso il ciclope li paga bene ci guadagneremo tutti ma sì alla fine che cosa ho da perdere tu io non ti ho mai vista perdere allora dove li trovo in una casa abbandonata sulla costa orientale chissà che tesori nascondono lì dentro spediscili nell'ade e ruba tutto quello che hanno diventeremo ricchi ho intenzione di tenermi parte di quei tesori non si discute e nemmeno una dracma per il tuo mandante il resto servirà a saldare il debito sono le mie condizioni e va bene ora mostra quegli stranieri come si combatte a cefalonia fai scorrere il sangue o sarà il tuo a scorrere a